Quello che vedete alle mie spalle è il PMA, cioè il posto medico avanzato della regione Toscana. Si tratta di un modulo campale che viene gestito dal coordinamento regionale delle maxi emergenze della regione Toscana all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Quindi l'ospedale MAI con i suoi pediatri, i suoi anestesisti, i suoi infermieri di area critica faranno esercitazioni di simulazione in una situazione di emergenza e campale. Questo ci renderà operativi anche in situazioni drammatiche di maxi emergenza. Questo è il programma MAIER per i bambini nel mondo e siamo orgogliosi di essere il primo modulo pediatrico europeo per le maxi emergenze. Con il progetto Bambini nel mondo la fondazione MAIER sostanzia uno dei suoi aspetti per i quali indirizza parte delle sue risorse e parte delle sue motivazioni proprio, che è quella di concepire che in ogni parte del mondo un bambino abbia bisogno di cure, lì c'è la fondazione con il suo ospedale.